Sentiamo parlare spesso della Nord Corea, ma quasi mai ne parlano persone nord coreane. Io ho letto un libro, si intitola La ragazza dai sette nomi e l'ha scritta una donna nord coreana. E quando ho scoperto che questa donna sarebbe stata ospite della mitica fondazione Kennedy, ho deciso di incontrarla. Potete insegnare a pronunciare il nome di oggi? Potete insegnare a pronunciarlo bene? Hyon Soli Hyon Soli Perfetto! Questo non è il nome con cui eri registrati a bambino. Hai solo chiesto questo nome, certo? Explica a me cosa significa e perché lo chiesti. Perfetto! Io ho chiesto Hyon Soli perché Hyon significa il cielo. Perché il motivo che avevo Hyon, perché non voglio vivere in la scuola, in la scuola, in la scuola, che ho abbia sufficiente in mia vita. Perfetto che avevo in mia vita, quindi per dare il cielo, voglio vivere in la nuova. E quindi Hyon, che significa buona fortuna. E questo è il motivo che avevo Hyon Soli e che avevo Hyon Soli. Tu sei un immigrante illegale. Cosa pensi di arrivare in Italia o in Germania oggi senza documenti? Tutti i bambini in situazioni, hanno bisogno di un'altra scuola. Quando vedo il loro face, tutte le situazioni, mi ricordano che la mia vita come bambini in China, ho avuto più di 10 anni in China. Tutti i bambini in Italia. Tutti i bambini, c'erremmat importanti nelle prossime. Allci e tutti i nostri canali, sono venute in una persona. Ci sono venuti in un'altra scuola. Ci sono venuta in una scuola. Un'altra scuola, i loro i nostri canali è venuta, ecco un attimbiato, in una scuola, venutimente i nostri canali. La nostra scuola è crescita. A cosa la nostra scuola è come, tutti i nostri canali, in Cina e ripatriarono la Norte Corea, e dopo che saranno imprisoni, torturati e anche in pubblica eseguazione pubblica. Il ruolo distingue tra i quelli che lasciano il paese per alcuni economici e i quelli che lasciano a casa perché di guerra o di diktatoria. Cosa pensi? Hai dato importanza a questa differenza? Sì, lo so, perché i nostri dei fatti, dopo aver scappato da Norte Corea, in Cina siamo considerati come migrante ille che economiche. Ma siamo raffeggiati, perché la differenza è che non arriviamo a un paese normale. Norte Corea, come Norte Corea, non è possibile a vivere il paese. Non abbiamo mai trovato un passaporto nella nostra vita. stiamo così oppressati, stiamo così fermati nella storia, siamo tutti raffeggiati. Questo è il mio punto. Sto sicuro che nella tua bambina c'è anche delle ricerche. Voglio iniziare con queste. Cosa ricorda di te come figli? È davvero divertente dire questo, ma credo che la maggior parte delle ricerche della mia bambina c'erano è davvero felice. Non c'erano che c'erano una vita più altissima. Non c'erano l'unica, la libertà, la democrazia, la capitalismo. Non c'erano che la vita in Norte Corea era la più felicità. E' davvero orgogliata di vivere in questo paese. Nel mio primo diritto, Gimmi Song, diede. Perché, in quel momento, erano davvero brainwassati. E in quel momento, credo che Dio Lillo era un Dio. E anche credo che non eravamo a la bambina. E smogli. E drankvi. Ma in 1994, il primo diritto, Gimmi Song, diede. E in quel momento, erano l'unica. E magari erano un'unica come me. Un altro buon momento era, quando abbiamo ricevuto il dono, ho ricevuto il dono dei miei bambini. Anche in quel momento, non ringrazio i miei bambini, ma invece di ringrazio i miei bambini, io ho ricevuto il dono. E poi ho ricevuto il dono dei miei bambini. E ho ricevuto il dono di un'unica come, e ho ricevuto il dono di questo piacere. Ma ho ricevuto il dono di tutto il dono. Allo di Gimmi, credo che sia da Gimmi. Una piacere, come un piacere, noi avevamo un piacere ogni anno, per il giorno. E' un piacere molto piacere, per me giocare con i miei, con i miei, con i miei, con i miei, con i miei. Durante la piacere, abbiamo avuto un game. La maggia era di America, C'erano di uccidere i soldi americani o di uccidere i soldi americani o di pratica di prendere i bambini per l'America Quindi ogni gioco abbiamo spiegato in attacco americani o di tutto il game di brainwast. Abbiamo spiegato in gioco davvero horribili ma io non ho capito che erano horribili quindi siamo felici. È vero, in realtà. Siamo arrivati nella tua bambina. Sto pensando sull'illusione in cui hai cresciuto. C'era il momento in cui hai realizzato che il mondo che vivi in era un'illusione? Alcune persone, credo, magari un po' di persone che conoscono che North Korea non è un paese un paese ma non possono condividere le idee, perché abbiamo visto che avevano con sempre pubblico execuzione e la loro famiglia disparate all'interno dopo aver fatto un'errore e le persone stavano e non non credo per l'altro. Il motivo per l'argomento è perché erano vicino alla fine della città con la città e la televisione può prendere i città Signals, and it's illegal to watch Chinese TV in North Korea, but I did my best, and I was hiding in my room, and I was, you know, blocking the windows with curtains and with extra thick blankets, and I just secretly I watched the Chinese TV, but from Chinese TV I saw, you know, people even dye hair, wear jeans, you know, having necklace, rings, everything. Those items are banded in North Korea because it's considered capitalism, and then the capitalism will bring society decay. That's what we learned from the regime, so that moment I feel like a little bit, maybe my country is not the best in the world. From 1997, I saw on the streets, even people dying on the streets. It is really shocking that people who died already or dying people on the streets. It's a really horrible memory that as a, you know, North Korean citizen at the time, I thought until the moment, you know, people die only in novels or movies, you know. Daytime I saw people dying on the street, and then at night I saw from Chinese TV, it's like a brilliant new world. So it doesn't make sense to me, so that's why in the end it made me to cross the border, so I was awakening from the illusion at the time. Daytime I asked you to try help me understand what happened. From what kind of experience you ran away and how you made it? To say main point, I really wanted to see, as a 17 years girl, the moment I crossed the border, I didn't know that would be the last minute, maybe I couldn't go back to there in my lifetime. I just crossed, and then from the moment, just everything changed. The human rights situation is really horrible. For North Korean refugee woman, there are many Chinese human traffickers as sex slaves or brides to a man in China. I have a weak, hurt problem right now because living in China all the time, you know, it's nervous, you know, like whenever I see Chinese police cars running on the street, I feel like the cars, the police cars coming after me, so I'm just, you know, the chilly feeling from head to the feet. And then you have to tell me, tell myself, I will be okay. Then exactly, I'm traveling a lot right now with passport, many countries. But again, same feeling even today, whenever I'm standing in the, you know, security section at the airport, I still have the same feeling, like my heart is beating so fast. So I think this is like a trauma that I can't erase in my lifetime ever. I think you can understand a person discovering what is fun for him or for her. What do you enjoy? What makes you laugh? Oh, wow. This is a very unique question I have ever got. What makes me laugh? I don't cry or usually I don't smile. I don't laugh. Because it's really sad that the environment I grew up and then I suffered a lot as a refugee, so it changed all my mood. The tears, crying, it's like disappeared from me because I was crying so many years living in China to long for my family, everything, the hardships. But it is really hard for me crying right now. Like for me the tears all dry off, it's disappeared. And then, yeah, hard for me to laugh. Always I'm pressure with life. I mean to all my attention was to survive, to keep going, you know. When other people are taking a break or when they are enjoying watching movies or spending time with friends, whatever. I don't have that spare time. I had to do many things to have a successful life. And then especially I didn't learn a lot of things as a North Korean because the regime, you know, told very ridiculous things, not really useful information. That's why I just wasted all my life about the education. I'm just trying to learning the outside world a lot of things. So there's not many time to enjoy myself. But what makes me the most laugh was, you know, actually when I, from four years ago, I was reunited with my family. Her ideas, her thoughts, it's really sometimes makes me so laugh. For example, because she was brainwashed serially for almost 60 years living in North Korea. So she believes everything what she saw, what she learned from North Korea is real. When she came to South Korea, anywhere we go right now, there's all traffic congestion, car stuck in the street, can't move. And then when she saw for the first time, she says, wow, it is real. She couldn't believe that it was real. She believed that it was fake. And then another thing was, you know, when she saw for the first time in her life, ATM machine, the cash machine. Because in North Korea, we don't have a banking system. When I first time, you know, withdrawing the cash from the machine. She couldn't imagine that machine, that is machine. She thought there was a person, human sitting inside the box, hiding in there. And then the human just counting money. So she said, wow, I mean, the man sitting in there all day and without window. And then she said, wow, the person counting money so fast. You know, it's really actually sad that, you know, in the outside country, people take granted. I mean, for daily technology, everything we take for granted. But it shows how North Korea is terribly, you know, just deprived of everything from North Korea. And then whenever she taking bus, especially when she step on the escalator, she just scared. Especially when she goes down, she just couldn't stand there. She's scared to take subway for one year. So for one year, she scared to go out. She makes me sad and she makes me happy laughing. Adding one more, you know, also what makes me the most laugh was whenever I see those pictures on the internet, like all the dictators, the funny pictures, like somebody made Photoshop, like the dictator naked body, or like, you know, they're wearing female dress, something. There's so many, like all they described as a pig. Coming in North Korea, as a North Korean citizen, we couldn't even think about that. It's impossible even to see those pictures. As a North Korean citizen, we can't call the leader's name without putting any specific titles. So we have to call them, like, Dear Kim Lee Sung, Dear Kim Jung Il, or the most respected. And even in North Korea, there's people, you know, who had the same name as the leader. They had to forcibly change their name. It's impossible to have exactly the same name as the dictator has. So we are completely oppressed under the regime. So whenever I see those cartoons that describe the funny images about all dictators, I feel like releasing all my stress. How do you see yourself in 10 years yourself and the North Korea? Why? I think I will keep studying because in North Korea I didn't learn that much about the outside world. I'm going to keep continuing to fight with the regime. And then I will keep continuing to raising voice, raising awareness for North Korean people and North Korean defectors. And that's maybe even in 10 years that will be my goal. For me, you know, to foresee the future about North Korea, it is actually difficult, hard to guess. But in my opinion, we had separated for so long. We suffered too much in the separation. And then I believe it's time to end. And then also I believe tyranny can't last forever. He said this. And I believe it's time to end. And the top of Iraq itself says both of us are spitt 감사 avoir background. And I love it, I believe in the words prices at the end. But in my opinion, I doubt reviewers, whoω if I was so fig for, too. Grazie.